Sono Clara Silva dell'Università degli Studi di Firenze. Alla fine di giugno ci incontreremo a Venezia per partecipare al XIX Congresso dell'IFREF. Quest'anno il tema del congresso è l'inclusione nelle città educanti. Io porterò un contributo specifico sul ruolo dei servizi educativi 06 nel rafforzamento dei ligami sociali all'interno della comunità. I servizi educativi per l'infanzia sono i primi spazi educativi extrafimiliari in cui la relazione con le famiglie e con il territorio assumono un ruolo fondamentale. Proprio per questo tale servizio oggi sono di fondamentale importanza perché assistiamo a un indibolimento del tessuto sociale e quindi i servizi per l'infanzia possono essere anche quei contesti in cui si fa rete, si fa rete con tutte le istituzioni e gli enti che a vario titolo si occupano del benessere e della salute dei cittadini all'interno di un territorio. Ci vediamo allora a Venezia, arrivederci!